Prove di dialogo tra Partito Democratico e Italia Viva in Toscana per tentare di ricucire lo strappo di una candidatura per ora non condivisa, quella del segretario nazionale DEM Enrico Letta per le suppletive d'autunno a Siena. Il presidente della regione Eugenio Gianni e la segretaria del PD toscano Simona Bonafè si sono telefonati e messaggiati nelle ultime ore per cercare di ricomporre la lite che per il PD vorrebbe dire recuperare il tesoretto di voti che Italia Viva ha a Siena e che potrebbe contribuire alla vittoria di Letta, sfida non facilissima. La strada ha cominciato a spianarla lo stesso leader di Italia Viva Matteo Renzi che in un'intervista alla Nazione ha detto chiaramente Letta decida da che parte stare, mandando messaggi ancora più distensivi su Repubblica parlando di una trattativa ancora aperta. Un ruolo importante nella partita gioca anche la riforma dello statuto regionale che Forza Italia vuol portare al più presto in consiglio. La maggioranza sta parlando con Marco Stella, capogruppo di Forza Italia, per capire quanta voglia abbia di pigiare sull'acceleratore, rallentare l'iter della riforma, osteggiata da Italia Viva che ha gridato all'inciucio tra PD, Lega e Forza Italia è una strategia evidente per portare tranquillità. La candidatura di Letta nasce come richiesta del territorio e se Italia Viva decidesse di non sostenere il segretario nazionale del più grande partito di centro-sinistra del nostro paese, ha detto la segretaria Dem Bonafè, farebbe un grave errore e soprattutto un bel regalo alla destra. Se qualcuno nel PD vuol ricucire e accettare nuovamente che sia Matteo Renzi a dettare le regole, altri preferiscono rompere, come il consigliere Jacopo Melio. Collaboriamo, dice, o il PD abbia il coraggio di mettere Italia Viva fuori coalizione.